Non un'opera luttuosa, ma un inno alla vita e alla rinascita dell'Aquila, un dono alla sua comunità che dopo dieci anni dal terremoto, faticosamente è ancora alla ricerca di un nuovo posto nella storia e che lotta per un ritorno ancora lontano alla normalità, cercando di ricostruire la sua identità sociale e culturale. Così il maestro Nicola Piovani ha commentato il suo approccio alla composizione di un'opera sinfonica dedicata all'Aquila. È la Sinfonia delle Stagioni, concerto per il decennale 2009-2019 che Piovani ha composto su commissione della Società Aquilana dei Concerti Barattelli e presentata questa mattina all'Auditorium del Parco. La prima assoluta della Sinfonia delle Stagioni sarà eseguita domenica 7 aprile nella Basilica di Santa Maria di Colle Maggio e trasmessa in diretta RAI su Radio 3 e in diretta televisiva su canale RAI 5. Ma cosa possono fare la musica, l'arte e la cultura per una comunità che soffre? Una domanda alla quale il grande maestro Piovani ha cercato di rispondere proprio componendo la Sinfonia delle Stagioni. All'inizio non volevo farla perché non volevo scrivere una cosa luttuosa, qualcosa di tragico. Invece poi pensando di scrivere una Sinfonia sulle stagioni, partendo dall'estate, ho avuto proprio questa idea di relazionarsi al buio dell'inverno, all'esplosione estiva e di chiudere con la primavera. Cioè la rinascita, adesso sono venuto all'Aquila, mancavo da un po' e ho visto qualche cosa che dà un'immagine di rinascita. I musicisti cercano di stare da una parte, cercano di stare dalla parte giusta, siccome la rinascita richiede anche l'appello alle forze di tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, in questo senso l'arte, la musica può incoraggiare gli uomini di buona volontà, almeno quello che timidamente ho cercato di fare scrivendo questa Sinfonia.